Un viaggio lungo e faticoso per raggiungere l'Italia, ricominciare una nuova vita e ottenere un lavoro che gli potesse permettere di aiutare i familiari rimasti in Nigeria. Vittima del racket e di una cultura che l'ha sottoposta a un rito voodoo ritrovandosi schiava di una mamman, ha deciso di collaborare con le forze dell'ordine e di smantellare un'organizzazione dedita al traffico di uomini. La super testimone in questione ha 26 anni e adesso vive sotto protezione in una località segreta. Avevano preteso 30.000 euro per farmi ottenere un lavoro in Italia, ha denunciato la giovane alla Guardia di Finanza appena sbarcata a Lampedusa. Ma una volta arrivata in Libia mi hanno rinchiuso in una casa insieme ad altre ragazze. Volevo fuggire ma non potevo. Grazie al suo racconto, questa mattina la procura di Palermo ha disposto il fermo per quattro persone, tre nigeriani e unganese, tra Reggio Calabria, Napoli, Lampedusa e Agrigento, accusati di associazione a delinquere trasnazionale finalizzata alla riduzione in schiavitù alla tratta di persone e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Stando a quanto riscontrato dalle indagini coordinate dal procuratore Francesco Lovoi, dall'aggiunto Maurizio Scalia e dai sostituti Geri Ferrara e Anna Maria Picozzi, a capo dell'organizzazione ci sarebbe stata proprio la Maman, colei che si occupa di gestire e controllare le connazionali, spesso avendo precedentemente seguito il loro stesso iter. Mi dissero che sarei dovuta andare in Sicilia e così è stato, ha concluso la giovane. Appena arrivata su un barcone, sono fuggita.